Questo articolo di Huawei ha riscontrato una valutazione di 9 su 10 totali. In questa selezione risulta essere il migliore. I punti di forza sono. Stile. Durata della batteria. Leggero. Funzione timer. Qualità del sonno. Rilevamento del sonno. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione di questo prodotto di UMIDIGI è di 8 voti su 10. Risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo. Le sue peculiarità sono. Stile. Durata della batteria. Impermeabile. Per L allenamento. Funzione timer. Qualità del sonno. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Agtech è di 8.6 voti su un totale di 10. Risulta il più venduto sui portali online. Le sue principali funzionalità sono. Leggero. Durata della batteria. Funzione timer. Impermeabile. Per L allenamento. Qualità del sonno. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Amazfit è di 8.6 voti su 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. I punti di forza sono. Leggero. Funzione timer. Durata della batteria. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile. Qualità del sonno. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video.